Io sono Carla Coppari, titolare con mio marito e mio fratello dell'azienda Maio. Il nostro prodotto nasce in Italia, è un'azienda con la filiera interamente italiana, lo produciamo noi all'interno del nostro laboratorio nelle marche. La nostra idea era quella di mixare tradizione e innovazione e fornire quindi un prodotto particolare, nuovo, che ha dei contenuti però che attingono anche dal passato. Il nostro consumatore, uomo-donna, è una persona che spazia dal punto di vista dell'età, però con una forte personalità, un forte carattere, capace di saper cogliere gli input che vengono dalle collezioni fatte con amore, con passione e con il cuore.